Buongiorno a tutti, buon sabato e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video vediamo la tabella di perequazione per quanto riguarda le pensioni 2025. Infatti cambia il meccanismo della perequazione stessa e di conseguenza anche quelle che saranno le percentuali con i vari scaglioni delle pensioni. Vediamo dunque tutti i dettagli nel video che segue. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace all'interno del video per continuare a supportarci. Grazie. IMS si prepara a introdurre nuovi criteri di rivalutazione delle pensioni per quanto riguarda il 2025. Ora che è uscito il testo della manovra 2025 c'è l'ufficialità. IMS quindi adotterà un approccio diverso rispetto agli anni scorsi. Con la riduzione dell'inflazione l'aumento delle pensioni sarà limitato all'1,6%, una crescita più contenuta rispetto a quello del 2024, ovvero 5,4%. Ciò significa che un assegno di 1000 euro riceverà un incremento di circa 16 euro, confermando un rallentamento dell'adeguamento annuale. L'Italia mostra tassi di inflazione tra i più bassi d'Europa, così influenzando il potere d'acquisto dei pensionati. Il governo ha anche rivisitato le fasce di importo modificando i criteri di perequazione. Proprio per tale ragione andiamo a vedere quali saranno e quindi la tabella. Nelle previsioni gli aumenti saranno articolati in percentuali decrescenti in base all'importo. L'1% per gli assegni fino a 1.842 euro, lo 0,9% per gli assegni tra 1.842 euro e lo 0,9% per gli assegni tra 1.842 euro e 3.073 euro. Si passa poi a uno 0,75% per gli assegni tra 3.073 euro e 3.688 euro e lo 0,5% per gli importi superiori. Per le pensioni minime abbiamo già affrontato l'argomento in due video differenti. L'adeguamento sarà del 2,5% portando l'importo a 630 euro. Forza Italia ha proposto un incremento aggiuntivo per queste fasce al fine di rafforzare il sostegno ai redditi più bassi. Anche perché l'anno prossimo, calcoli alla mano, come già visto, le pensioni minime aumenteranno di soli 3 euro mensili. Inutile negare che questa notizia ha scatenato un mare di polemiche tra i pensionati stessi e i sindacati. Con queste misure il 2025 si prospetta come un anno di maggiore equità per quanto riguarda le pensioni, con un sistema che tiene conto delle differenti esigenze di ogni fascia di reddito, limitando l'impatto della bassa inflazione. Nonostante ciò, gli aumenti promessi dai vari partiti in campagna elettorale non si sono minimamente avverati. Siamo ancora, ad esempio, lontanissimi dei 1.000 euro promessi in campagna elettorale da Forza Italia per quanto riguarda le pensioni minime. Come sempre, fateci sapere i vostri dubbi e domande qui sotto nei commenti del video. Grazie.